Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale e Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, Viale Magna Grecia 189 Taranto. Corso e scavatore 10 ore. Durata. Il corso di formazione è stato approvato per 10 ore così suddivise. 4 ore teoriche, 4 ore pratiche. Svolgimento. Il corso è erogato in modalità blended, parte teorica online e parte pratica in presenza. Rilascio attestato? Sì. Il rilascio dell'attestato è consentito una volta superata la prova teorica e la prova pratica. L'attestato ha validità quinquennale e abilita il corsista all'utilizzo dell'attrezzatura di cui ha il presente corso. Confimprese Taranto, Confederazione Sindacale e Datoriale delle Micro, Piccole e Medie Imprese, Viale Magna Grecia 189 Taranto.